andrà tutto bene puntata numero 444 sono le 15 e 31 dell'11 novembre 2020 dagli studi di aracne tv chiara buccini collegamento con noi da anguillare antonella berti antonella berti giornalista pubblicista scrittrice responsabile del banco alimentare una vita veramente spesa a sostegno degli altri anche con la sua professione di assistente sociale autrice del libro vite spezzate in italia dagli anni 70 d'oggi un libro tradotto proprio in tredici lingue e antonella benvenuta complimenti e grazie di aver accettato il nostro invito grazie a te a giochino ad aracne tv grazie anche del complimento buon pomeriggio a tutti i telespettatori e sì vite strappate in italia gli anni 70 d'oggi dall'illustre prefazione della senatrice paola pinetti ripresentato proprio prima in prima edizione digitale lo scorso 3 settembre 2020 qui ad anguillara è stato tradotto e a breve saranno online in 13 lingue diverse inglese francese spagnolo tedesco catalano portoghese turco arabo finlandese maltese greco questo perché perché la tematica delle vite strappate abbraccia tutto il mondo quindi reputo che in tempi di covid molte persone usino il computer per acquistare libri per leggerli per e quindi ha trasformato la prima edizione di vite strappate in formato ebook che vedete anche di dietro a me per quanto riguarda il resto si sono stata candidata le amministrative qui di anguillare è stata un'esperienza e sono molto contenta che ha vinto angio pizzicallo della lista corrispondente candidato sindaco della lista della quale mi ero candidata e sono diventata responsabile del banco alimentare la sede di amata di anguillara manziana con un coordinamento anche del banco alimentare di roma e dell'arte ringrazio questo salvio lozzi che siamo una squadra abbastanza forte la pandemia non è finita anzi è tornata più aggressiva vorrei dirmi se sbaglio ma ho sempre asserito che non era mai andata in vacanza certo a differenza magari di noi che siamo andati in vacanza la pandemia infatti non è andata in vacanza e sta creando credo Antonella delle diseguaglianze sociali ancora più pesanti tu con la tua attività sei proprio impegnata in questo senso allora non solo sta creando le diseguaglianze sociali ma è aumentato il tasso di povertà perché la gente perde il lavoro la gente ha bisogno di risposte e non di promesse io quotidianamente giro con guanti e mascherina che vado a rispondere al bisogno emergente e mi rendo conto che concordo con quello che dicono anche i commercianti e dicono ma è possibile che fino alle sei c'è la possibilità di prendersi il covid dalle sei poi no e questa è comunque sia una grossa abbagianata a mio avviso perché il virus è in circolo sempre non è che c'è una limitazione oraria siamo in un periodo estremamente difficoltoso forse il peggiore di tutte le vecchie crisi del 68 e discorrendo e questa pandemia sta creando non solo dei buchi relazionali ma anche dei buchi proprio lavorativi perché le persone non sanno come arrivare a fine mese non sanno come andare avanti c'è un alto tasso anche di apatia di depressione e quindi diciamo che quotidianamente io adesso sono tornata da una casa famiglia che seguo a Roma Est e sto cercando di sensibilizzare ma anche di creare partecipazione perché anche all'interno di questa stessa casa sono delle giovani mamme alcune con figlia altri senza che anche loro hanno dei momenti di panico di tristi perché non riescono ad avere diciamo il lavoro in questo momento l'emergenza ancora di più di prima la mia associazione risponde anche alle 11 a mezzanotte di sera gente che non sa come pagare le bollette gente che non sa come arrivare alla fine del mese gente che non ha più neanche il reggio di cittadinanza perché giustamente finiti 18 mesi canonici del reggio di cittadinanza devi ripresentare la domanda per due mesi non percepisci il reggito e la gente sta veramente alla canna del gatto questo è biontologicamente professionale una sconfitta a mio avviso perché anche noi siamo impotenti io mi rendo conto che il pacco alimentare aiuta ma è un palliativo chiaro nel senso che si dovrebbe fare qualche cosa di più una programmazione forse Antonella una programmazione un aiuto serio e concreto alla base di chi veramente vive il disagio perché altrimenti certo voi è un volontariato ad andare a colmare delle carenze ma se quelle carenze non vengono colmate alla base per voi è sempre immagino anche un rincorrere l'emergenza sempre un rincorrere l'emergenza e soprattutto adesso è anche difficile reclutare volontari perché occorre fare la vaccinazione dell'influenza fare la vaccinazione dello pneumococco tenere la mascherina obbligatoriamente da quando si esce dall'associazione a quando si rientra cambiarla se si usa la mascherina chirurgica a distanza di 4-5 ore tenere i guanti perché comunque sia si maneggiano pacchi alimentari della comunità europea e quindi comunque sia anche per me è uno scendere in campo direttamente questo lo faccio dal profondo del cuore però spesso la sofferenza mi tocca perché il governo credo che sia qualcosa di controllo a mio avviso nel senso che comunque sia si è gestita male sia la prima andata ma soprattutto la seconda con la seconda siamo che il nuovo lockdown totale genera veramente rivolte genera persone che hanno perso tutto non hanno nulla da perdere che tornerebbero tranquillamente a protestare a manifestare a scendere in piazza contro diciamo una restrizione che per chi magari se ne riprodiga a leggere le notizie ad approfondirle che è capito fa storce un po' il naso autocolo rispetto a diciamo quelle che sono le dpcm che sai quanta satira fanno su facebook è quotidiana ormai è diventata come lo spot del grande fratello sentiamo cosa dice il presidente del consiglio questo perché spesse volte neanche noi abbiamo la bacchetta magica prima per esempio facevamo dei colloqui adesso li facciamo a distanza i colloqui non c'è più si è perso anche un po' il vostro contatto umano quello che poi è proprio quello che è l'anima sì facciamo tutto online con le PEC sensibilizziamo le persone ma si è perso proprio il contatto face to face davanti con l'utenza perché sai i social comunque filtrano quella che è un'emozione non verbale un'emozione non verbale che è fondamentale questo nella mia professione io la reputo una sconfitta perché molto spesso ti dico guarda io ho consegnato sabato 7 novembre ho consegnato 22 pacchi alimentari sono tornata a casa a mezzanotte e 40 e sono andata via alle 3 di pomeriggio quindi comunque sia è un lavoro stancante e spesso le persone mi dicono ma chi glielo fa fa e io rispondo sempre che comunque sia le persone devono mangiare quotidianamente ma è perché c'è la pandemia per cui ripeto è un lavoro stancante rispondere alle emergenze che poi si sono quadruplicate chiaro cioè se prima noi avevamo 20 di richieste di pacchi alimentari sono quasi 40 in più mettiamoci anche le caute che noi sediamo noi siamo lo staff di tutte donne ho una collega a borsa della testa che si occupa di civile e diritto di famiglia anche in creduto patrocinio rispettiamo i casi pregressi al covid che si sono ampliati diciamo con nuove emergenze e nuove cose e poi c'è da dire anche che comunque sia la candidatura mi ha dato la visibilità politica che mi aspettavo nel senso che io sono sempre stata nascosta qui ad Anguillara-Sabazzi invece essere emersa con il libro ha permesso di unificare un po' la persona e il personaggio che magari non riuscivano a unificare però certo anche io mi sono inventata nell'editoria in questo modo perché vedi... Antonella manca qualche minuto alla fine di questo nostro primo incontro io volevo proprio che tu mi parlassi di questa tua avventura editoriale è vero tu sei stata più all'inizio più conosciuta come personaggio che come persona è vero questo parlaci brevemente in qualche... abbiamo proprio tre minuti di tempo questo tuo libro lo ricordo vite spezzate dagli anni 70 ad oggi in Italia una ricerca dell'identità possiamo dire allora innanzitutto devo ringraziare soprattutto Gioacchino Aracne dell'ambiente anche Antena del Mediterraneo perché quando sono andata di casa in casa e quando vado di casa in casa molti mi dicono... mi riconoscono dalla voce perché poi uso la mascherina però ringrazio diciamo i media e la stampa perché mi stanno conoscendo anche per le mie battaglie sociali e questo me ne orgoglisce sebbene sono a volte anch'io stanca sebbene sono preoccupata questo perché? perché nasco anch'io vittima e quindi che io riesco ad amalgamarmi in mezzo alla gente nonostante sia anche vittima di stalking e quotidianamente per subisco situazioni posso dire che io continuo ad esserci continuo ad andare avanti a testa alta sempre a dipende del tempo di tutela degli emarginati e di risolvere questo lo dico perché la help c'è, Antonella Berti c'è, che risponde al bisogno poi più tardi ti mando a tutte le persone questo sito web che è www.assistenza.com con una piattaforma H24 chi si trova in stato di emergenza ci può contattare io ringrazio te Chiara ringrazio tutte le persone che ci stanno seguendo e speriamo di risentirti presto con nuovi aggiornamenti e magari con una presentazione ufficiale dei 13 book tradotti nelle rispettive live sicuramente Antonella guarda noi io io ma noi ringraziamo te veramente per il tuo lavoro quotidiano a sostegno di chi soffre in questo momento come abbiamo detto ancora più difficile degli altri in cui magari ognuno si sente ancora più solo in una battuta finale Antonella voglio chiudere questa puntata così cosa ti senti di dire a chi soffre a chi adesso sta male io vi dico che questa è la più grande emergenza socio-relazionale economica mai vista nella storia ove mai avete qualche sentore di depressione scrivete al 344 29 41 868 io vi tenderò sempre la mano insieme ce la faremo insieme si può grazie grazie ad Antonella Betti grazie ancora per quello che fai Antonella e ci rivedremo presto per un altro incontro e soprattutto per approfondire questa tua attività in continua crescita buona fortuna Antonella grazie mille grazie a tutti gli spettatori arrivederci grazie a tutti